Hai tra i 18 e i 29 anni? Orienta il tuo futuro con Informa Giovani 4.0. Informa Giovani è qui per te, un servizio gratuito del Comune di Modena che ti mette a disposizione gli strumenti per realizzare i tuoi obiettivi. Se stai cercando un lavoro, ti aiutiamo a scoprire le opportunità professionali e i percorsi di carriera su misura per te. Se desideri potenziare le tue competenze, puoi esplorare corsi e programmi di studio mirati per arricchire il tuo curriculum. E se vuoi partecipare attivamente con azioni di volontariato, Informa Giovani ti mette in contatto con organizzazioni che condividono le tue passioni e potrai anche tu fare la differenza nella nostra comunità. Se le sfide quotidiane stanno influenzando il tuo benessere psicofisico, l'Informa Giovani può aiutarti a trovare i servizi del territorio adatti a te, offrendoti percorsi personalizzati per il tuo recupero e sostegno. Cosa aspetti? Vai sul sito e vieni a trovarci! Ciao! 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 Ciao!